Bella vecchi trapani e bentornati sul nostro canale Oggi siamo qui con una crossbar challenge speciale Perché faremo una crossbar Una crossbar challenge col cazzo Perché faremo una crossbar con tutti voi Praticamente registreremo un video dove Sarete voi contro noi Noi ci scambieremo Noi ci scambieremo uno per uno E voi entrerete uno alla volta Chi ha capito? Finimo domani Ce la posso fare? E questo è quello che non vedete su youtube Queste sono le magiche parti dagli altri video Quindi faremo una alla volta E che arriva Zitto Che arriva prima a tre Che arriva prima a tre Vince Ok mo entrerete una alla volta In fila tranquillamente E tanto Non succederà mai che si farà tranquillamente Questa cosa Poi se succede che i primi tre Prendono subito la traversa Rega mi dispiace Amo scherzato Un applauso Se poteva pure fare Non vale Non vale La challenge 2 è più la mano Sì Scusa che sei quasi simpatico Mettitei oltre al centro Poi esci lui e ne fa entra un altro Di punta se lo prendevi ti pagavamo i soldi proprio Quelli veri Quelli reali Quelli che fanno slish Incredibile La prende La prende Bravo 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 Grazie Per noi Per noi Per noi Per noi Ci parlo per cancellare Tecnicamente non l'avevi preso Un Go Bello Bello Bravo Colpa del laser Ah il portiere Poi io devo usare la capito di Il portiere Un'altra non l'era Modificato Giro Bravo Bravo Eccolo Oh vabbè Bravo Forza La travesa Eccolo La travesa Se è vendicato 25 Esattati Salty Adesso E' a Giolla! Vieni città! Ballon! Ecco loro! Vai, vai a ritirare premio, va! Lui è il primo che ha preso la traversa! Grandissimo! Come ti chiami? Matteo! Grande Matteo! Adesso vai! Vabbè aveva visto! Troppo forte! Esci fuori la testa bassa! Ah messi signori! Signori! Si viene da a Casa! Oh Addio! Ele! Two vai! Swasta a destra! Bizarro! Cinque autani! Bello! Senza piossa! Tizianino! Olè! Sì! Sì! Bello! Oh! Bello! Come si ne sa? Bello! Bello! Grazie a piatto! Bello! Bello! Guardate ilального! Ammazzato! Bello! Bello! E finisce qui! Eh! 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 E finisce qui! E finisce qui! E finisce qui! Allora, è finito, abbiamo vinto noi, l'unico di loro che ha preso la traversa è Gianmario Grande, bravo Gianmario E Matteo È una parabola a Gianmario È finita 5 a 1, lui ha fatto tre traverse, cioè incredibile E puoi dire qualcosa a questo momento speciale No No, ok, quindi chiudiamo qua e al prossimo video Gli altri like per un prossimo episodio Bella Bella Bella